Oggi esaminerò, assieme con l'Avvocato Ceccoli, gli articoli 7, 8 e 9 del Codice di comportamento. Questo è un esame che è anche un esame analitico e sistematico, perché io e la collega analizziamo le norme del Codice di comportamento come se fossero queste norme inserite in uno spartito musicale e noi analizziamo le norme come se fossero delle note musicali. Qualcuno potrà sorridere a questa mia espressione ed è ovvio che la musica è più bella del diritto, però vi sono delle regole che riguardano il diritto e la musica che sono quasi uguali sulla consonanza e la dissonanza. Questo indica come bisogna analizzare le norme di questo regolamento che riguarda il comportamento dei dipendenti pubblici come se fossero uno spartito musicale. Con questa premessa più o meno musicale vediamo l'articolo 7. L'articolo 7 prevede l'obbligo di astensione, questo è il titolo dell'articolo, e si afferma, come poi si vedrà nel testo, che il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione da decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, eccetera, o di parenti. Ora fermiamo l'attenzione su due parole, decisioni e attività, quindi adozione di decisioni e attività. In particolare l'adozione di decisioni indica che tutto un complesso di procedimenti che pervengono poi a una determinazione e anche a una votazione, mentre invece la parte dell'attività può riguardare sia delle attività di carattere concreto, ma specialmente l'emanazione, per esempio, di pareri o altro. Altre parole su cui bisogna fermare l'attenzione è che queste decisioni e attività possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti. Ne abbiamo già parlato, ma qui vorrei interpellare la collega, l'avvocatessa Ceccoli, per dire che questo possano coinvolgere. Sembrerebbe dall'analisi letterale che ci si trova di fronte ad un grado di probabilità. Mi abbiamo già fatto un cenno, ma vorrei che la collega venga a chiarire a me stesso innanzitutto e a coloro che ci ascoltano qual è il significato di questo possano coinvolgere e che grado di probabilità deve essere previsto, anche perché se non viene osservato il codice di comportamento vi può essere una sanzione disciplinare. Prego. Dunque, a mio parere, e chiaramente non ho nessuna pretesa di essere esaustiva, questo possano coinvolgere, indica, il pericolo che possa esserci una commistione di interessi. Questo pericolo si presenta in tutti questi determinati casi che sono elencati nell'articolo 7 e deve essere un pericolo concreto, che però riguarda un qualcosa che potrebbe verificarsi nel futuro. Come ci ha detto in una scorsa lezione il professor Bassani, riguarda un pericolo futuro, ma certo, quindi è una condizione futura che non si è ancora verificata, perché ovviamente il provvedimento non è stato assunto, la decisione non è stata presa, questo è tutto a livello preventivo, però la situazione in cui si trova il pubblico dipendente induce a rendere probabile concretamente la possibilità che ci sia questa commistione di interessi e quindi al dipendente si impone, perché questo si astiene è un dovere di astensione, di non partecipare né all'assunzione di decisioni che potrebbero coinvolgere interessi suoi propri o di altri che sono qui elencati, né al compimento di attività più in generale che pure potrebbero risultare, subire l'influenza di queste sue cointeressenze. Bene, vorrei richiamare l'attenzione su un altro brano di questo articolo 7, siamo sempre nel comma 1, ecco unico comma. Tutte queste persone che sono qui indicate, coniugi, conviventi, persone, ecco persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. È un'espressione un po' curiosa questa frequentazione abituale, che richiama una precedente formula che era usata nei codici precedenti, credo anche nel codice di procedura civile, dove si parlava del commensale abituale, anche questo termine antico, cioè colui che era abitualmente invitato a pranzo o a cena da parte di queste altre persone. Questo problema del commensale, che richiama evidentemente un'abitudine sociale di altri tempi, è stato tradotto nella formula moderna della frequentazione abituale. Ma pongo anche qui una domanda all'attenzione della collega avvocatessa Ceccoli. Frequentazione abituale significa possibilità di contatto abituale, per esempio al bar, o presso qualche associazione sportiva, o invece deve essere proprio una frequentazione casalinga dell'uno in casa dell'altro. Come deve essere interpretato questa parola frequentazione abituale, che nello stesso termine indica la frequenza, quindi una ripetitività? Una costanza di rapporti, direi, che può essere esplicata in qualunque ambiente, a mio parere, non soltanto in casa, ma a questo livello ovunque. Quindi oggi, per esempio, anche sui social, perché si potrebbe essere in un gruppo social particolarmente ristretto, cui si deve aderire con una manifestazione di volontà, e questo potrebbe comportare frequentazione abituale. Quindi anche questa dovrà essere esaminata in concreto per vedere se questa frequentazione sia veramente abituale o non abbia episodici casi di frequentazione occasionale, in cui non influirebbe ovviamente nell'attività del pubblico dipendente. Ma se questa frequentazione, a qualsiasi livello, si presenta come abituale, e quindi c'è un contatto continuo fra i soggetti pubblico dipendente e soggetto terzo, a mio parere si presenta il dovere di astensione. Condivido questa tesi e pongo un altro problema, sempre proseguendo nella lettura del comma 1 dell'articolo 7. È prevista l'ipotesi della causa pendente, e qui non sorge problema, ma è indicata anche la grave inimicizia. Potrebbero sorgere dei problemi di interpretazione, sia sul termine inimicizia, sia sul termine grave. Cosa vuol dire grave inimicizia? Cos'è un'antipatia che si sviluppa tra due persone o più persone? Un'antipatia determinata, per esempio, da diverse ragioni di carattere politico? Come si può rispondere a questo interrogativo? Io credo che forse solo un'antipatia non basti. ci voglia qualcosa di più per arrivare all'inimicizia. Ma certo è un concetto molto esteso, che può riguardare tantissime ipotesi. Ad esempio? Anche qualcuno che non sia arrivato ancora a fare una causa, e in questo caso si rientrerebbe nel caso precedente, ma abbia un'evidente intenzione di farla. Che so, pensiamo anche solo a questioni ereditarie fra parenti, fra il fatto che ci siano state contestazioni, anche non tradotte in una causa, dimostra una grave inimicizia. Quindi bisognerebbe andare a vedere la situazione concreta per valutare quanto possa essere considerata grave questa inimicizia reciproca. E questa gravità deve essere interpretata in senso estensivo o restrittivo? Io credo che nell'ambito di quello spartito, che è il codice di comportamento, che è tutto ispirato alla prevenzione contro la corruzione, anche questa gravità debba essere interpretata in forma estensiva. Estensiva. Visto che riguarda un rischio di influenza negativa sul pubblico dipendente che ne limita l'imparzialità, l'imparzialità del dipendente deve essere tutelata al massimo. Condivido questa precisa interpretazione e proseguendo nell'esame fermiamo l'attenzione sopra un'altra ipotesi che è stata indicata nell'articolo 7. Rapporti di credito o debito significativi. Qual è il significato che bisogna dare a questo termine significativo? Deve essere un debito molto grande? Può essere un debito anche ridotto? Perché significativo è un termine che può essere interpretato in modo elastico, estensivo o restrittivo. Qui però vi è questa indicazione, non debiti e crediti e basta. Debiti o crediti significativi. Qual è il significato di questo termine? C'è un gioco di parole significativo? Ecco, a mio parere anche qui significativi vuol dire di una certa consistenza. Quindi se lo rapportiamo a quello che prevedeva l'articolo 4 quando parlava di regali di modico valore che ci indicava orientativamente 150 euro, ecco, direi che al di sotto dei 150 euro possiamo considerarli rapporti di modico valore, sicuramente, perché già un'indicazione ce la dà la norma. Al di sopra valutiamo anche in considerazione delle disponibilità di ciascuno, perché chiaramente quello che per me può essere significativo per chi ha una maggiore disponibilità finanziaria può non esserlo. Quindi probabilmente bisogna un attimino valutare in concreto nella situazione del pubblico dipendente interessato quale possa essere un rapporto significativo finanziariamente. Ecco, credo che lo stesso parametro e di attento ragionamento debba svolgersi anche per l'inciso che vi è nell'ultima parte dell'articolo 7. Gravi ragioni di convenienza che comportano poi l'obbligo del dipendente di astenersi. Gravi ragioni di convenienza. Anche qui c'è un termine che può essere interpretato in modo elastico. Cos'è questa convenienza? È chiaro che non sono regole di Galateo, ma come può essere interpretato? E chi valuta queste gravi ragioni di convenienza? Ecco, anche qui secondo me questa convenienza è l'opportunità che il pubblico dipendente partecipi all'attività che coinvolge terzi esponendo quindi al rischio che la pubblica amministrazione appaia come un soggetto che compie un'attività viziata. quindi quando si rileva l'opportunità a che questo non avvenga il pubblico dipendente ha il dovere di astenersi e chi lo valuta? Lo stesso pubblico dipendente perché è lui il primo a capire, a conoscere i motivi di opportunità che gli impongono di astenersi. Ove non lo valuti lui perché magari ha qualche motivo per cui evitare di procedere alla propria astensione sulla astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Molto bene, ma a suo giudizio il responsabile che deve poi dare la risposta finale sulla astensione deve motivare questa sua decisione sulla astensione o sulla non astensione? Beh, io credo che qualunque provvedimento della pubblica amministrazione debba essere motivato. Tanto più dopo la legge il decreto legislativo 33 del 2013 sulla trasparenza e la tracciabilità tutto deve essere motivato. Quindi a mio parere anche la decisione del responsabile dell'ufficio di appartenenza deve avere una motivazione che potrebbe anche essere soltanto che il pubblico dipendente si sente in situazione di conflitto di interessi e quindi si astiene perché la sensibilità del pubblico dipendente in questa situazione è forse la cartina di tornasole prima cartina di tornasole. Certamente, quindi la decisione del capo ufficio sulla astensione o meno dovrebbe e deve essere in ogni caso motivata. Bene, abbiamo visto la trama di questo articolo 7 e possiamo quindi passare all'esame sempre sui punti essenziali dell'articolo 8 che ha un titolo significativo prevenzione della corruzione. Già è un obiettivo ampio e difficile. Quindi in questo articolo 8 sono indicati sempre una serie di doveri stringenti per il dipendente perché richiamo prima di sentire l'opinione della collega che è indicato il dipendente rispetta e questo il termine rispetto noi lo ritroviamo anche nel testo unico degli enti locali indica una simmetria stringente tra due situazioni non è come sempre nel testo unico degli enti locali come l'espressione nell'ambito che indica uno spazio entro il quale si può orientare una risposta all'altra. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione quindi rispetta significa un dovere proprio preciso stringente però sorge qualche problema sulle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione quali sarebbero queste misure necessarie? A mio parere innanzitutto vorre fare riferimento sempre alla legge 190 2012 che è la legge anticorruzione e quindi le misure necessarie vanno ricercate in quella legge questo in linea generale come previsto dalla prima frase del comma 1 poi lo stesso comma 1 nel prosieguo dice in particolare il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione la legge 190 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre ciascuna un piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che sia calato nella situazione specifica di quella pubblica amministrazione quindi faccia un'analisi dei rischi di corruzione nell'ambito della singola pubblica amministrazione preveda le misure che si rendono necessarie specificamente in quell'amministrazione e anche in quel singolo ufficio perché il piano deve scendere proprio nel dettaglio quindi anche l'indicazione dell'articolo 8 sollecitare il dipendente a rispettare in particolare le misure per la prevenzione lo aiuta a individuare le misure necessarie perché già a monte il responsabile per la prevenzione della sicurezza unitamente agli altri soggetti che devono appunto elaborare il piano ha indicato quali siano le misure necessarie nell'ufficio cui il pubblico dipendente appartiene e quindi egli è tenuto a rispettarle in maniera puntuale e ove anche nel piano non fossero individuate tutte le misure necessarie che sono previste invece nella legge dovrà far riferimento anche alla stessa legge cosa succede se il lente sia esso comune provincia regione eccetera non ha adottato il piano o anche non ha adottato cosa che è prevista in altre leggi il piano per la performance altro termine un po' complesso da interpretare ma se non c'è questo piano può il dipendente dire ma come faccio io a rispettare un piano che non c'è no non potrà rispettare il piano ma dovrà sempre rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e quindi sempre riferirsi alla legge 190 non potrà esimersi dalla responsabilità di prevenire di adottare le misure necessarie per prevenire la corruzione solo perché il piano non c'è perché nella prima parte del comma si parla appunto di misure necessarie quindi quelle previste dalla legge sappiamo che il codice è un regolamento e quindi sottostà alla legge nella gerarchia delle fonti e quindi anche il pubblico dipendente deve fare riferimento alla legge direi che dalla precisa risposta che su questo problema ha dato la collega si vede però un altro aspetto che vorrei richiamare come il comma 1 dell'articolo 8 è suddiviso in varie parti c'è la prima parte e poi abbiamo le altre parti tra queste parti c'è come una specie di gerarchia tant'è vero che se in ipotesi si deve verificare la situazione che non vi è il piano per la prevenzione e su questo interviene la prima parte del comma dove si dice il dovere del rispetto alle misure necessarie alla prevenzione e riemerge la legge che è stata più volte citata la 190 che costituisce un po' come inferno quindi si vede come anche nell'ambito delle norme e questa è una norma regolamentare c'è un ordine interno che non è casuale il fatto che una certa disposizione sia inserita nella prima parte del testo evidentemente condiziona le altre parti e quindi l'eventuale lacuna che c'è nelle parti sottostanti viene colmata la stessa cosa si verifica nell'ambito delle leggi anche nell'ambito della Costituzione che noi abbiamo per esempio i primi 12 articoli che sono incapsulati nel titolo Principi fondamentali gli altri articoli da 13 in poi se in ipotesi vi fosse qualche dubbio qualche interpretazione devono essere visti alla luce di questi principi fondamentali ora la stessa cosa sia pure in termini più ridotti si presenta nell'esame di determinati problemi relativi alla prevenzione della corruzione è indicato ancora proseguendo sempre in questo esame sui punti chiave dell'articolo 8 il dovere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni questa segnalazione come deve essere interpretata può essere una segnalazione corale deve essere per iscritto la norma non precisa in che forma debba avvenire la segnalazione quindi potrebbe essere anche una segnalazione orale certo è che visto che è comunque un obbligo per il dipendente l'obbligo di segnalazione ai fini di prova se egli dovesse essere imputato di non aver effettuato questa segnalazione io suggerirei una segnalazione scritta perché in questo caso hai la prova di aver fatto la segnalazione dovuta diversamente una segnalazione orale sappiamo che verba volant ecco esattamente le parole volano ancora un'ultima chiosa sopra queste situazioni di illecito naturalmente sono situazioni di presunto illecito o quelle che tali sono valutate dal dipendente ma chi valuta può il dipendente dire ma io non ho segnalato perché ho ritenuto che queste situazioni non fossero di illecito fossero delle situazioni nuove e quindi non sapevo come orientarmi e quindi non avendo la sicurezza ma insomma una base per considerare queste situazioni illecite sono stato zitto e o comunque non non mi sono astenuto non ho segnalato non ho fatto insomma nulla sarebbe giustificato questo comportamento secondo me anche in questo caso come diceva lei dobbiamo riferirci ad altre norme per interpretare quelle successive dovremmo riferirci ai principi generali dello stesso codice di comportamento e valutare se la valutazione scusate il bisticcio di parole che ha compiuto il pubblico dipendente sia stata compiuta con quella diligenza necessaria che è imposta al pubblico dipendente quindi la sua valutazione non può essere arbitraria deve essere compiuta con la necessaria attenzione diligenza imparzialità e via quindi si vede come anche nell'ambito di queste norme si congiungono poi queste norme sembrano lontane ma i principi generali previsti nella prima parte degli articoli del codice di comportamento colmano anche eventuali lacune delle altre parti quindi c'è un equilibrio tra le varie parti di questo codice che non è la costituzione è un regolamento però anche in questo regolamento pur con qualche difetto che può avere si nota un determinato equilibrio e sulla base di questa affermazione esaminiamo l'articolo 9 che ha un titolo impegnativo trasparenza e tracciabilità già del termine trasparenza se ne era stato fatto un cenno e giustamente la collega Ceccoli ha parlato del termine trasparenza è stato visto con un'espressione a volte giornalistica casa di vetro evitare delle opacità evitare dei punti dove non si vede trasparenza però è indicato l'adempimento da parte del dipendente degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti ipotizziamo ipotizziamo che un dipendente non assicuri questo adempimento degli obblighi affermando ma le norme che riguardano i problemi della trasparenza e della tracciabilità queste disposizioni normative vigenti sono troppo complicate io dipendente non le ho bene comprese quindi il fatto che non ho potuto assicurare l'adempimento degli obblighi non è colpa mia le norme sono troppo complicate sarebbe una ragione tale da evitare un'ipotetica sanzione disciplinare o addirittura qualche cosa di ancora più grave e io non credo perché anche una norma complicata necessiterà uno studio necessiterà l'aiuto da parte di un superiore nell'interpretazione perché ognuno avrà un proprio livello di conoscenza delle norme chiederà a chi ha una maggiore conoscenza ma non può esimersi da rispettare una norma solo dicendo non l'avevo capita questo in base al noto principio che ignoranza legis non excusat questo non sarebbe un giustificativo sufficiente per evitare una conseguenza anche disciplinarmente rilevante qualcuno potrebbe obiettare alle pur giuste osservazioni dell'avvocato Ceccoli che la stessa corte costituzionale per quanto riguarda la responsabilità penale ha previsto il caso della ignoranza scusabile però siamo nell'ambito della responsabilità penale e quindi non è possibile trasporre la sentenza o il principio della sentenza della corte costituzionale su questa fattispecie alla diversa fattispecie relativa alla trasparenza che stiamo esaminando quindi direi la tesi che è stata espressa anche se qualcuno potesse fare l'obiezione della sentenza della corte costituzionale in riferimento alla responsabilità penale non sarebbe persuasiva un altro punto su cui ci fermiamo brevemente ma però cercando di cogliere il nucleo del problema è la massima collaborazione anche questo chi valuta la massima o la minima o la mediocre collaborazione da notare che poi questa collaborazione è svolta sia nella elaborazione dei dati che poi esamineremo sia nel riferimento dei dati sia nella trasmissione dei dati questa massima collaborazione potrebbe essere accusato un dipendente dicendo ha collaborato poco o nulla non diciamo che ha remato contro però è stato come dire passivo non ha dato la collaborazione qui addirittura massima collaborazione che valutazione si può dare di questo inciso dell'articolo 9 anche questo il primo giudice è lo stesso dipendente che valuterà se la propria collaborazione sia o meno in linea con quanto previsto ma su di lui ci sarà un superiore gerarchico che anche lì valuterà e la valutazione comporta un'eventuale sanzione disciplinare con tutte le garanzie del procedimento disciplinare del diritto di difesa dell'incolpato ma dove si dovesse registrare che la collaborazione non è stata quella massima richiesta dalla normativa questo potrebbe sicuramente comportare una sanzione sanzione disciplinare ovviamente certamente però ipotizziamo che questo dipendente che vuole difendersi da eventuali sanzioni disciplinari invoca su problemi di carattere tecnico elaborazione dei dati la difficoltà della complessità di queste nuove forme di elaborazione dei dati potrebbe dire ma insomma mi hanno imposto di dare la massima collaborazione per elaborare dei dati e quindi secondo un procedimento per me nuovo complicato che non ho ben capito e quindi io sì ho collaborato però l'elaborazione dei dati che sono dati anche tecnici è troppo complicata e quindi io non ho potuto farlo non per cattiva volontà ma proprio per la difficoltà stessa della elaborazione come anche si può dire nel reperimento sarebbe una difesa solida questa da parte di un dipendente beh naturalmente nell'ambito giudiziale ognuno porta avanti le proprie tesi però certamente il datore di lavoro gli potrebbe opporre ma io ho fatto una formazione perché al datore di lavoro compete invece un obbligo di formazione e quindi se questa formazione non fosse stata effettuata questo potrebbe essere sottolineato dal dipendente che si giustifica dicendo appunto io non sapevo e non sono stato istruito a dovere se però questa formazione è stata effettuata e magari il dipendente se ne è sottratto perché non ha partecipato ai corsi a cui era stato invitato questo addirittura potrebbe essere un aggravante della sua questo è un punto delicato e importante e mi sembra che la soluzione che è stata individuata sia quella esatta abbiamo ancora poi un altro e spero quasi ultimo problema sul problema della tracciabilità il secondo comma dell'articolo 9 ferma l'attenzione sulla tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti che deve essere in tutti i casi garantita quindi una trasparenza dinamica per così dire attraverso un adeguato supporto documentale anche qui cosa vuol dire adeguato supporto documentale il dipendente dice ma io ho dato nella mia competenza e nella banca dati che mi si riguardava questo supporto documentale qui me ne chiedono mi chiedono altre cose che io non posso dare o comunque sarebbe troppo complicato dare per me dice il dipendente questo è il supporto documentale che posso fornire di più non posso fare sarebbe giustificato questo anche qui si tratta sempre di motivazione delle dei provvedimenti e delle attività quindi siccome tutto deve essere motivato tutto deve essere per tutta ci deve essere la possibilità di ricostruire le motivazioni per cui si è arrivati a quel a quel provvedimento a quella decisione in questo senso direi che deve essere tracciabile l'attività del pubblico dipendente e quindi egli deve aver compiuto un'istruttoria che deve essere anche documentale perché ovviamente il dire o fatto non sarebbe sufficiente deve provare di aver fatto e quindi deve avere documenti di base che gli servano a mostrare come è arrivato ad assumere quel tale provvedimento bene mi pare che abbiamo visto non tutti i problemi relativi agli articoli esaminati ma almeno quelli che sono i punti essenziali quindi possiamo concludere la chiacchierata di oggi ringrazio il contributo puntuale che è stato dato dall'avvocatessa Ceccoli e ci ritroviamo nella prossima tornata per l'esame dei successivi articoli 10 e seguenti del codice di comportamento di comportamento di comportamento